Musica Ci troviamo a Canosa di Puglia, ai appendici del colle storico dei 40 martiri del rione Castello. A Bascio o Crapollotte, una strada storica, via anfiteatro, portava all'anfiteatro romano, una via ripida, tant'è che il proverbio evoca che s'anghiena a pass e s'ascenna a trotte, data la sua ripidità. A Bascio o Crapollotte, ma perché un Crapollotte? Perché c'erano allevamenti di capra e venivo a prendere il latte di capra che è più digeribile. Allora ci troviamo nel mese di agosto, questo è il bastone dei pastori. Ci troviamo nel mese di agosto e vogliamo raccontare con le signore che stanno anche qui, vogliamo raccontare una storia nel mese di agosto. Ma chi parla non è la persona, ma una pecora, una capra. Abbiamo trovato questo racconto nel romanzo Famiglie della prima metà del Novecento, quando l'autore Antonio Schiraldi, ho trovato questo libro grazie a un amico, Nuzio Nenoci, racconta la vita di Usalataura. C'era quindi il latte, faceva il formaggio, Usalataura, abitava in una traversa del castello. C'erano le pecro e le capre, famose dai tempi dell'antica Roma, Marziale racconta, scrive, attesta. Bene, dice Antonio Schiraldi in una pagina, ecco la voglio leggere, nel libro di dialettologia, dice, e leggiamo questo bastone, a pagina, se non erro, 53, vogliamo essere fedeli, dice la pecora alla frasca, non vorrei venisse mai il mese di agosto, perché dalla carne mia ne fanno un pasto, e con la pelle mia carrano il mosto. Noi abbiamo voluto trasformare anche in dialetto la voce del popolo, dice la pecora alla frasca, non vorrei venisse mai il mese di agosto, che dalla carne ne fanno da mangiare, e che la pelle ne fanno, che raccogliano il mosto. Già, con la pelle della capra, abbiamo così portato un modello, perché un modello autentico lo conserva il professor Di Giacomo nella sua masseria verso Cerignolo, l'abbiamo visto, ma un modello anche autentico si trova anche nel museo etnografico di Mocchie, pensiamo, in provincia di Torino, tutt'umonia cum cast, potremmo dire. Venivano scuoiati, ecco la pecora racconta, dice, non volesse mai carruare su un maestro d'agosto, perché con la carne le fanno da mangiare, e con la pelle veniva scuoiata, la pelle, per intero, tutta un'arte, veniva gonfiata, un po' come si faceva ai conigli, veniva scuoiata per intera, senza essere incisa, e venivano messe essiccate al sole, ecco immaginiamo qua a Bascio Crapallotti, essiccate al sole, poi venivano conciate, c'era un mestiere, un pdera, uno zio mio, Mammucci, Raffaele Mammucci, defunto, emigrato a Bologna, faceva questo lavoro, un pdera, le pelli, la pelle di capra, mio nonno, nonno Peppino, nonno materno racconta, prima della guerra si scendeva la mira con la pelle della crepa, e ci capevano due quartiere, venti litri, bene, questo racconto del vino trasportato nell'otre caprino, abbiamo trovato anche conferma da una nonna anziana, che vive ancora a Savina di Nunno, in un tinale, in una grotta, in uno stabilimento vinicole oleario di via Carlo Alberti, lei proprio simula, e pensiamo che questo tre caprino, quindi abbiamo trovato conferma, ecco l'otre caprino, l'otre caprino che serviva per trasportare il vino, ma pensiamo tutto munie come cast, ma munieva e munia, perché così è vissuto anche Ulisse, lo racconta Omero nell'Odissea nel VI secolo, nel VI secolo, abbiamo trovato il testo, ho trovato il testo in greco, che poi mio fratello, professor Pasquale di Nunno, ha tradotto, e Ulisse quando arriva, va da Polifemo, per un po', no, metterlo così, distrarlo, diciamo distrarlo, addormentarlo, farlo assopire, nell'otre caprino e nell'ascos caprino, porta il vino nero dolce, capitolo nono, se non sbaglio, l'ha tradotto mio fratello, sottolineando le parole, ascos, otre, oinoe, oinoe, vino, enoteca, enos, enos, vino, no, diciamo enoteca, vino, melanos, melanos, io gli disse al mio fratello, ma che significa, scusa, la melanina è nera, quindi vino nero, potrebbe essere il vino nero di Troia, quindi portava questo, questo otre caprino, i pastori dell'antica Grecia, il vino, anche nella Bibbia si parla di onotre per trasportare l'acqua, eccolo qui, ma in più c'è stato un altro anziano, siamo qui, non possiamo trasmettere questi profumi d'offe che d'agosto, attraverso le mani del vidrio di Sabino Mazzarella, che ringraziamo per la sua disponibilità volontaria alla storia di paese, e attorno ai piedi dei tetti, di questi tetti, delle tecole che ormai sono scompassi, lo taccaretto, lo taccaretto che serviranno per l'idea, e del profumo di questi figli, di questo albero, incontrammo un altro anziano, Saverio Leone, nelle grotte di Leone, Saverio Leone, un altro ottantenne, e si chiamava la Mandegna, la Mandegna, anche qui c'è un'etimologia che ho scritto nel libro, mantica, latino medievale, sacco, otre, bisaccia, bisaccia, la Mandegna, pensiamo a questi termini che evocano una storia, una civiltà, una cultura, la cultura, la civiltà della pastorizia. Allora l'augurio di questo mese di agosto, con la voce della pecora, non voglio dire che prendete un altro caprino e metteteci il vino, perché sono parecchi 20 litri, sono assai, potrebbero turbare la nostra serenità ambientale, ma con un bicchiere di vino, del nero di Troia, di Canosa, sede di vigneti, di enocultura, di viticoltura, facciamo, non dico mangiamo un pezzo di carne di capra, perché è difficile anche trovarla, ma facciamo memoria di queste, mentre sentiamo di nuovo il rumore del campanaccio, ecco, di queste pecore che risuonano nel tempo, facciamo un brindisi al mese di agosto ai tutti i visitatori, agli emigranti, buon ferragosto!